È l'Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, nacque così oltre 30 anni fa, ha seguito il tema della lotta alla contraffazione per tanti anni, ne ha fatto un cavallo di battaglia e ne è stato il propulsore in Italia. Oggi, ormai da qualche anno, non solo segue il tema della contraffazione ovviamente, ma segue anche in modo molto importante il tema della propria intellettuale e della difesa della propria intellettuale, anzi, dello sviluppo e della difesa, perché la propria intellettuale è in realtà il motore di crescita delle nostre imprese ed è quindi il motore di crescita del nostro mercato.